e che braccia dai dietro sto ginocchio voglio vedere perpendicolare parti fra vai jacobin tu bene cambio fra siamo seduti ok recupero vai ecco il giro che li ha cominciato è capolato scatela scatela torci sì bene così andiamo a cercare di tutta, dietro c'è un cappello, andiamo a cercare di tutta, prende tutto, ok ok e salve 5, 4, 3, 2, 1, 0, vamos a cercare di due Grazie.